Confisca da 100 milioni di euro per l'imprenditore, 73enne di Casal di Principe, Alfonso Letizia, ritenuto dalla procurante mafia uno degli operatori economici di riferimento del clan dei Casalesi, addirittura dalla fine degli anni 80. Sono stati gli uomini della DIA ad eseguire il provvedimento. Letizia era considerato il punto di riferimento dei Casalesi, della famiglia Schiavone, perché metteva stabilmente a disposizione dall'organizzazione mafiosa i propri impianti di produzione del calcestruzzo e le proprie strutture societarie, ottenendo di contro l'ingresso nel novero delle aziende oligopoliste presenti sul mercato casertano. Più nel dettaglio, l'associazione imponeva sui cantieri controllati le forniture di calcestruzzo provenienti dalle loro aziende. L'indagine ha consentito di evidenziare un meccanismo definito come cooptazione gamorristica del fornitore, in cui proprio Letizia era individuato quale fornitore del calcestruzzo per determinate opere a prezzi di gran lunga maggiorati rispetto a quelli di mercato. La vicinanza di Letizia ai Casalesi è stato confermato da più collaboratori di giustizia. Carmine Schiavone ha evidenziato il suo legame con Bardellino, sottolineando che lo aiutò a sottrasti alle ricerche delle forze dell'ordine, dopo un omicidio commesso a Marano, offrendogli ospitalità, nonché con Mario Iovine e con Vincenzo De Falco. Luigi Diana ha confermato di averlo conosciuto proprio a casa del capoclan, Francesco Vidognetti, alla fine degli anni Ottanta. Augusto Latore ha precisato invece che la società di Letizia aveva aderito al consorzio Covin, ovvero all'aggregazione di estrattori di sabbia governato dal clan, che garantiva il monopolio delle forniture al sodalizio.